bentornati signori a questo nuovo video allora oggi di nuovo antedouse cimetière vediamo che succede signori non ci fate caso alla divisa ma tenevo tutte quante nell'asciugatrice quindi non ho fatto intenderci ammettere allora partiamo con quattro antedouse questo sound è vacante allora signori come la va quest'oggi come la va da quanto tempo che non proviamo l'antedouse signori è un bel pochitto vediamo se riusciremo a schiattarla per una volta ma ho i miei dubbi come la passa signori qua proviamo a cussì abbiamo perso ovviamente vediamo se ci inizi a fare quei segnali buoni quindi la pagata da 10 euro in basso con quattro gargamella o tre bambini vediamo che succede in questo caso giocando così accendo però 50 e 50 togli questo il pagamento da 10 euro ovviamente sono i quattro gargamella da quattro zeti e vediamo un po i meloni signori come sempre vi raccomando lasciateci 30 mila like iscrivetevi al canale cosa fondamentale attivate la campanella delle notifiche selezionando tutte le notifiche così state sempre aggiornati altra cosa in descrizione non sappiamo più come dirvelo signori però però diciamo comunque trovate il nostro instagram e il nostro canale whatsapp dove tutti i giorni vi aggiorniamo su su qualsiasi cosa un cambio di programma come avete visto in passato e ultimamente qualsiasi cosa signori quindi seguiteci anche sul canale whatsapp ovviamente è tutto gratis nessuno cioè privacy al 100% nessuno può vedere i contatti di altri come voi non potete vedere i contatti nostri e così via non potete scrivere nella chat perché molti hanno detto sì ok mi sono unito ma non riesco a scrivere perché se non è un gruppo è un canale solo di diciamo di comunicazione che solo il creator quindi noi possiamo scrivere e mandarvi aggiornamenti quindi vi arriva la notizia e pubblichiamo un link bello facile facile del video del giorno fate sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate della anti daos sem tier consigliateci altre slot come state facendo che vorreste vedere e noi le proviamo signori qua vabbè non c'è niente da dire signori la conosciamo anche le pietre sanno come funziona la anti daos questa io ce l'ho pure stampato qua una specie da bambino no 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 che cazzo è questa cosa sto mostro qua sto mostro la speriamo quella schiattami signore ah mannigio oggi non sono molto fiducioso eh so sincero non lo so perché mi sono svegliato antifiducioso oggi speriamo che mi sbagli signori ma difficilmente mi sbaglio i meloni c'è pure i limoni sopra proviamoci eh beh piccete sta burcaria e questo qua ce lo teniamo ma sta pure il per quattro vai a fare pure una bella falare ci potevamo pure provare quel qua con quel per quattro però come sappiamo facilmente mette il castello come la gallina quando abbiamo il per due quindi meglio non rischiare signori pochi maledetti ma subito no era monachiella eh i castelli qua non esistono non c'è pieno di castelli signori non c'è il castello wow 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 buh è giramorto signori eh salvi sotto non ci va no vabbè che non è che fa tutta questa differenza eh che già l'abbiamo spiegato miliardi di volte in passato quindi non serve oggi come oggi non serve più a niente soldi sotto soldi sopra soldi centro soldi soldi tutte stronzate signori perché non seguono più la logica quindi lasciate perdere tutte quelle stronzate che si dicono che se vanno sotto paga se vanno sopra no sono tutti stronzati signori e gente che è rimasta alle 75 che non si è evoluta e vabbè non si può fare per farci una partita un po' così oggi la giochiamo un po' diversamente signori visto che solitamente noi la ce l'ho messo bello porco giuda che culo la giochiamo un po' diverso dal solo solitamente le altre volte l'abbiamo vista sempre cioè abbiamo sempre puntato a 5 castelli o 5 vampiri quindi segnale o bonus quello che sia oggi facciamo cose diverse la schiaffam non lo so ci ha abbetto 8 nel momento in cui però si mette un po' in moto e cerchiamo di farla sballa così a castelli a 8 16 non serva a niente signori 8 è il momento quello migliore mannaggia ma come la batteria aspettate un secondo signori mannaggia la miseria ma l'ha attaccato il caricabatterie mannaggia 60 pistole una roba da matti si era staccato il caricabatterie vabbè condito e stavo dicendo bet 16 non sembra un cazzo un lotto ma è sempre un azzardo ovviamente e può valere la pena falare il primo falare che ci dà ora si mette subito a castelli pe 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 questo ovviamente signori vale come la gallina nel senso che se durante una partita da spesso le galline in questo caso i castelli potrebbe essere una partita molto movimentata ma se non ve lo da si vi può darla 40 euro così ogni tanto ci scappa non serve a niente cioè va a zero mentre se mi si dà un po' di di scatter quindi castelli roba così allora qualche speranza ce l'abbiamo di galleggiare vediamo se sia questa con la partita la cetacea mi ispirava stava pure il per 4 vaffanque metterla vabbè da 8 subito saremmo andare subito da zero ovviamente basta vedere quanti spin abbiamo fatto quindi è meglio usare sempre la testa qua signori eh non è come con le altre macchinette stupide e sceme che non ci serve la testa per giocare metti i soldi e premi qua invece un minimo di non dico per vincere ovviamente però per limitare le perdite o per farsi la partita senza perdere molto un minimo di abilità comunque ci vuole che molti già l'avrebbero messo a 8 e già stavano a zero inserì altri soldi poi in questo caso c'è un motore particolare cioè rispetto alle altre ovviamente che anche essendo una sorta da barra che non conta il rigiro come le VLT o come le soldi online questa qua non conta il rigiro a livello contabile quindi incontabilità ma a livello di motore di meccanica è utile farle fare molto rigido per arrivare a quel famoso punto quindi più il bet è basso e meglio è qua ovviamente perché si fanno più sping e qua nonostante stiamo così ma il castello in seno video vediamo ora manca l'ombra signor vediamo ora ci riproviamo manca l'ombra signor ehm qualche castellata ci sperava un muro eh ma non ce l'ha data proviamoci la tanto eh abbiamo migliorato un po' qua sta bene a 10 euro a 10 euro ce l'ha arrennuta signor di gioco non fa riddassù eh questa esce vabbè come va va la facciamo ucciso io bravo sta bene allora vediamo quando era d'avanzo ma con come vi ho sempre detto con i bambini non non sballa eh cioè non sballa sballa ma non ci da mai tutto la rimanenza soprattutto se abbiamo il per quattro divene a 50 euro solo quelli e vediamo un po' che succede mo se fosse stato un altro video quindi come abbiamo sempre fatto in passato io l'avrei tolti per appunto per continuare questi sono 5 castelli siate fiduciosi dicevo non l'avrei fatta a uscire a due parole appunto per arrivare a due castelli al bonus però ve l'ho detto oggi facciamo qualcosa di diverso quei tre castelli così che questa qua quando fa tre castelli e quattro castelli vale come cinque castelli messi nella posizione ovviamente corretta dei cinque castelli quindi o tre sotto o tre così come ha fatto vale come a cinque castelli non è detto che ci dia 100 euro perché sappiamo che le galline la full plane fa cinque galline ma se ci fa l'uovo da 14 non è blu quindi sono galline false e questa qua fa la stessa cosa anziché fa l'uovo da 14 quindi non blu vi fa tre castelli che equivalgono a cinque castelli falsi e ora vediamo che succede se li fa veri però vediamo sagnoni quando parte a castelli è come una gallina signore si mette a fare l'arinderi e partuta ce ne accorgiamo quando vuole fare i castelli vabbè 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 la rimetto come prima perché ve l'ho detto la la rimanenza con i castelli non me la dà quindi è come quando uscite con le uova alla gallina la rimanenza non me la dà vabbè solo con le uova signori eh quindi se prendete fantascienza che lo so cinque uova in alto a per due a per quattro a per otto non è che vi da otte cien da euro anzi vi da zero mi aspetta almeno una dieci euro però la potrebbe dare eh questa non c'entra un cazzo non c'entra niente mi aspetta un cazzo il bel per quattro sembriano a quaranta euro per manneggiarmi sei queste sono le tre faglie è un dors ah no sta zio ti ho sbagliato io vabbè mi mangiano così alla fine eh voi vedremo che succede mh torsaci che cosa le buone le mele burrata la ambiglia se vuole uscire facciamo uscire signora mette voi qui Sfaffanculo la piccata Purtuale quando ne vuoi Vieni Non ce l'ha indorza Poco 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 ancora non parte signore Ancora non da castello Ci ha fatto vedere la pezzottaggine prima ma non è servita niente Non buono Non buono macchinette Macchinette sul locale è 20 euro Metta le 100-150 al soldo Ehi questi qua Vabbè ma qua è inutile che facemmelo i ukizi Perchè sappiamo che su Land and House non funziona Quindi è inutile che ci mettiamo poco a perdere tempo Non ne castello Oh La prima volta ci da tre castello No la seconda volta Vabbè questo credo è da 5 euro Ovviamente Guarda Quattro e cinque anni Schemi fissi ovviamente Qua non servono un cazzo Qua solo 5 se è il bile Tre castello no buono Wow 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 Torse c'è una bella falare Facci galleggiare un po' Vedete voi sei yard Non è gli out delle macchinette Ehi cari signori Ehi È triste il fatto qua Però alla fine Stima vince pure una vinda ma male non va stranamente abbiamo scaricato 100 euro su una mag dentro cioè dentro a 10 minuti 12 minuti e come solitamente i video alle mag chi ci segue ovviamente da sempre non durano mai al di sotto di un'ora qualcuno 52 53 minuti c'è durato ma questo è uno dei primi signori e abbiamo il bello jackpot questo paga bene sto buono si può pagare 50 euro 40 o jackpot non è questa è la 15 euro invece non è la 50 euro si è pazzi a picciare ma anche la 50 euro ci ha dato infuocati wow wow oh metticela mettete a castelli così la schiaffiamo signori a 8 come già detto in presidenza è quel bel per 4 manneggia è una bella sudariello eh si non ce l'ha intorzato però pull è troppo wow 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 per 4 immagino falare falare era buono ragazzo per 4 ma appena ci dà un paio di castellate signori la schiaffa 8 vediamo se sballa così no eh già da tutta la parte l'ha messo tranne andolo dove la mette appiccio wow 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 ha fatto 5 castelli mannaggia l'ha fatto solo con i pezzotti signori ma quei pezzotti a noi non ci servono a un pene lo sappiamo no ma che poco e poco e poco e poco ce n'è io da zero mi sa wow 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 proviamo così che magia mai non ci riusciamo vediamo se lo fa da sola non ci riusciamo evg dai così erano le vecchie evg faceva schermatura uguale rulli gemelli non so se vi ricordate il mago far west airport tutte queste qua tf tutte queste vecchie 75 per cento fa là e metteci a non falare 40 euro cazza pozza picciaio comunque sta girando tantissimo cioè tantissimo un po più della media sta girando l'ultima castellata e l'alziamo annaggia fa sempre le finte fa sempre le finte e non ce le intorza brutta scostumazione che è questa comunque ogni pochi euro riparte subito ma alla fine non c'entrò un cazzo perché sta su quella fase che vuole girare un po signore questo dal momento all'altro o parte o si chiude e se mangia due 300 euro senza downtrice altra cosa fondamentale avete visto quello che ci avete sentito cosa che ho detto all'inizio scusate che non serva a niente soldi sopra soldi sotto ma in questo caso noi l'abbiamo presa che i soldi non andavano sotto quindi ovviamente l'opera era vuoto non sappiamo di quanto questo è l'euro non c'entrò un cazzo non sappiamo di quanto ma sotto non c'entrò qui sa presumo che l'asolta abbia fatto un pagamento prima di noi quindi già pagato avete visto che l'asolta può pagare anche se i soldi non vanno sotto e ci ho messo pochissimo non so quando vedete nel contatore ma ci ho messo poco quindi tutte stronzate signori quante volte abbiamo presa soldi sotto sì che ci è andata bene abbiamo messo tra i 400 e ci ha dato 200 c'è andata benissimo in quel caso ma non è sempre detto che se vanno sotto la slot ti paghi non sta scritto dopo da nessuna parte queste sono teorie così cambate in aria cioè che non servano a un cazzo signori perché non è così e vabbè rimeggiato succede qua comunque la cendera nostra ancora sta qua c'è rimasto qualche munagheio signore niente di che eh però sta bene dovuto proviamo con così che la prima e gredì leggermente così ovviamente il bet 100 su un quadro sembra che la signora è alla fine si può alza leggermente più la volatilità ovviamente però stiamo là la fine wow 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 i meloni wow 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 o non si mette a castelli eh non ce li da cazzo pozza appicciato fatto pure l'arena wow 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 va bene signori come se non vi raccomando lasciateci 30.000 like iscrivetevi al canale e cosa fondamentale attivate la campanella delle notifiche selezionando tutte le notifiche così state sempre aggiornati ogni volta che ne pubblichiamo un contenuto un euro quasi fa nulla signori no non è già mi sono caduto in una chiede sta bene anziché uno ma ben due non succede un cazzo signori morta ha fatto quei castelli pezzotti guardate che la 100 euro fa sbaglio proprio e secondo me io ho fatto benissimo ad accettare quella 100 euro perché se non si ha mai io l'avessi scartata questa qua si mangiava quelli più più altri da come sta girando è anche vero che se non accettavo quel pagamento non accettavo che non so 40 50 non mi ricordo quanto cazzo era ma facevo girare un po' e camminavo alla fine solo teorie così campate all'aria signori 1 e 1 0 1 2 euro sono una 2 euro ora non ce li metti i castelli non castelli non parti signori non parte non non parti i meloni no i limoni è già sbagliato e signori fate sapere nei commenti cosa ne pensate della Underdouse questa è la quattola perché c'è quattola schelmo e scriveteci anche che altro gioco vorreste vedere di questa qua di un altro quello che volete tanto voi avete visto stiamo provando diverse nuove fa la rinver proviamo la proviamo così a 4 cioè sarebbe a bet 1 alla fine e in altra 100 euro signori è in fussa male perché tanto cioè se io continuo a mettere questi qua poi metto gli altri abbiamo perso oggi ovviamente perché stiamo ai soldi nostri messo 100 dato 100 la slot ovviamente ha perso ulteriori 35 euro rispetto a come stava prima che quando da 100 scala mannaggia un singhiozzo quando da 100 scala 100 quando mettiamo 100 sale 65 che 30 se segnale perché se non da 50 non è segnale è un pagamento se da 50 è segnale e dicevo quindi se noi mettiamo 100 la slot sale 65 perché 35% di tasse quindi e ci da 100 la slot ha perso altri 35 euro quindi attenzione sempre e stiamo a 35 guarda se non fa 50 sono contento signore pure di meno pure fermati ora io qua come fa parà vuole un mystery stop e ora fa mystery oh 50 non è segnale signore il segnale è 50 euro preciso eh 59 e penso che è finita qua eh ci vuoi farci accendere se ci vuoi farci accendere è partura affambe magari signore magari ci potremmo proprio ascoltare signore e proviamoci un po' eh wow 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 però non così oh hanno già visto le così mettiamola un po' a castelli e poi la facciamo partire se la consuma troppo cioè se sta imbestialita signori mangia troppo quindi facciamola un po' girare così dopodiché pam la schiettiamo a otto sperando che ci faccia uscire ovviamente eh 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 e là sta l'arte questo è rujukitsu la cinghè che era viva 4 ma ce n'aveva 5 non indorso i castelli segnali quelli buoni che ci fanno capire la sorta potrebbe magari non l'ha fatti quindi i 3 bambini o le 4 i 4 bergamella quindi un po' con il rischio vanno a 100 orse ce le 5 vaffanculo meno male meno male che non l'ho messa a otto meno male che ho usato il cranio signori stava un amico mio già stava a bette 16 direttamente e poi si spetaccia ogni volta ma è quella chiocchiera signori ti saluto chiocchiera purtroppo signori io sto i giorni inderi a dircelo a dircelo a dircelo a dircelo se non lo capisce niente da fare ti ho detto falla girare prima niente nonostante ce lo dimostro quando stiamo insieme vabbè se no non si chiamasse chiocchiera signori purtroppo non si chiede a me quando invece mi fa arrivare sopra destronzato scheritissimo macchinetta solo 100 euro tale 100 euro mettele no al momento sto vincendo 16 euro 16 euro signori onestissimo direi ma come l'hai fatta a dare quel 50 centesimo dispare signori scusatene forse quando l'ho alzata c'era il dispare e metticene un malone vaffanculo per 4 era buono meno 80 euro vinde euro per 4 pure moto è già pistole meno male che la stiamo facendo girare signori meno male per aspettare un altro piccolo eh che giocata tecnica tattica però là se voi non bloccavate questo è uno schema fisso ovviamente della gallina se non si bloccava quel quel malone non ce lo mettevi quindi quello ce lo mette sempre ricordate ricordate lo se me lo vorrei fare faccio vedere un'altra volta signori signori non mette i castelli ma hanno già pistole facciamo così mettiamo a 4 cioè mette 100 sperando che ci dia i castelli ci faccia risalire leggermente ma la veto molto dura punti ne esistono e mette sta cazzo da bambire così il bonus sto a bette 100 sono 3 bambiri su ogni quadro 2 4 6 8 e poi ci fa le paie su tutti i quadri ero sbagliato mi sa alzarla signori come un chiocchero a meno che vabbè sapeva doveva rimanere bassa anzi la cosa migliore era a metterla proprio a 50 su un quadro solo però vabbè lo sapevamo e lo sapeva che cosa andava incontro quindi sto chiocchero pazienza però pure per fare qualcosa di diverso provare a fare che stronzata ma non c'è andata a buon vino se la stronzata smirta comunque i castelli signori non li hai ripetuti non li hai ripetuti ispira la ceracia macchinetta non dalle celacce amico tuo solo gargamella dalle appicciate appicciate signori questo è come gira del capace che si mangia tutto quando la cendebra potrebbe farlo eh a meno che non acchiappa un spin picchio e parte nuova cioè parte pure per le altre cendebra ma contento perché non gira assolutamente come come volevo ovviamente e purtroppo mica la possiamo trovar sempre bene sempre bene quanta male abbiamo trovato e bene po mese due mese l'anno 2023 abbiamo chiuso sotto 12.000 circa 11.000 dispari con 20 22 video se non sbaglio porco giù vinde video 12.000 euro sotto da barra ce ne sono 20 partite 20 20 20 20 partite mamma mia poveretti quelli che che ci vanno tutti i giorni ma chissi so pazzi signori vabbè comunque wow 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 niente non ci devi fare che ci prova eh te ne metterai possibilità ragazzo non lo mettevi mettevi io prendo una 20 euro signori due quattro sei otto dieci due quattro dieci sedici dieci otto venti precisi che in mano e signori e signori questo datevi sempre ovviamente un limite di tempo e di soldi però come sapete noi diciamo sempre di non giocare che è la miglior cosa perché sì ok oggi è successo questo qua ma alla fine stiamo perdendo però alla fine la partita ce l'ha cioè ce l'ha sempre fatta signora ci può stare a 20 euro questo è uno scam no non vi porto questo vedete là sopra vi metterà sempre prima siamo stati miracolati che ci ha fatto i bambini per 4 signora se ci provate dieci volte dieci volte mette il castello mo ci vuole no tolgo pure questo non mi piace non so la cerace la cerace è pari a zero mo ci vuole vaffanculo oh ungo non mette i castelli non ci mette i castelli signori roba da matti non ce l'ho in dorsa eh non ce l'ho in quattro pure so buono so buono è il doppio di du ok wow wow mi ha la cinghiera mamma mia quant'è mosso ogni volta 7 euro signori un po' meglio ah no so 4 castelli prima 7 e 5 andate se trovo maneggio gli schemi fissi wow 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 e proviamoci un altro po' che la maneggiamo proprio vaffanculo signora la partita ce la siamo mai fatta ci ha fatto divertire alla fine perché non abbiamo perso non abbiamo perso chissà che anzi abbiamo perso 20 euro ci può stare dopo un'ora di rire signori a perdere 20 euro ma veramente eh che cazzo eh che cazzo è che è proviamo a fare sto sto miracolo avrei preferito rubuttiglione però vabbè non è male vediamoci così tante di quelle volte lo vuole mettere magari si eh un tentativo no no è buono no sono una chiesa hanno un sacco giallo visto manco un sacco c'è da uno no pensavo che ci stavano altri castelli sopra no non mi ha servito un cazzo fate finta che noi l'abbiamo preso riproviamoci così che cazzo mi sono portato che cazzo avevo pure sbagliato eh questo è buono ma diciamo il per quattro se chiudesse un falaro è l'ha chiuso però così sì è asciuto ma io roba davanti eh eh qua è un rischio grosso signore qua se dai castelli la schiattiamo se non lo dà no è un bel rischio questo signore andavano presi eh io mo ci provo per fare che stronzate se ci va bene ci va bene se no pazienza ma ricordatevi di prenderle peccato eh peccato veramente se ne è un po' tardi non è un po' tardi se solo mettesse tre castelli ma anche se è un po' tardi no eh questa mo fa una calata speriamo di no ma probabilmente sì ce li hai mangiati signori ce li hai mangiati marfango la potevo fare pure una botta di raddoppio per tre euro facciamo uscire vabbè la stronzata la volevamo fare l'abbiamo fatta signori ve l'ho detto già all'inizio facciamo qualche stronzata oggi diciamo che i nostri stanno in salvo alla fine ah ci può stare ci abbiamo provato però traete il lato positivo ovviamente di questi video quindi se vi dovesse succedere pure a voi ricordatevi quello che è successo in questo video nel senso ci pensate dieci volte no due volte su una cosa prima di farla questa è proprio una regola della vita però se vi dovesse succede pure a voi diciamo ma sai che c'è visto che ho visto che ha zerato fammi le pigliate sul darillo che è meglio e non sbagliate mai signori per tre euro perché molti sono dicendo quella malattia della centeuro della centeuro della centeuro e se non vedono centeuro non so soddisfarli noi non ce ne frega un cazzo perché non lo sappiamo che è 97 ma pure 90 sono come a 100 però e quindi non si prendono rischiano 97 euro come in questo caso io rischiano 97 euro per prendere 3 euro in più e che serve signori non serve a un cazzo però va bene e ci può stare che cazzo non lo fa mo ci finisco di metterci da 10 euro e la mandiamo proprio a panchi a tenere un altro muna che io dentro e il niggio non ci ha dato 3 euro si è mangiato 97 ma non ci ha dato 3 euro la cazzo è maledetta vabbè la la potevo lasciata pure a 50 perché girando girando non pagamento non solo indurzava e ci faceva uscire sicuramente però l'avevamo detto oggi facciamo qualcosa di diverso quindi per chi si fosse perso sta cosa andasse indietro del video e risentitevi quello che che ho detto all'inizio sta bene wow 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 che bello falare poca e poca e poca piccola coltimi 6 euro mettere la macchinetta signori mettere 6 euro finire il video andate a mangiare io andate a mangiare è meglio che giocare ma non ci posso pensare ce l'ha pure i dati alla fine ma che se non serve a niente signor ultima 2 euro cari signori wow 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 e mannigia misera è una schiaffa dubbio non ce la schiaffa ma due signori ecco ma piccola ultimo spin quindi alla fine messi 100 preso 80 diciamo va bene è un'ora di video quasi 40 minuti ci può stare signori come sempre lasciateci 30.000 like iscrivetevi al canale seguiteli su instagram nel canale whatsapp che trovate in descrizione del video mannaggia pistole sono mesi non sapete come come dirvelo seguitici là e niente vi ricordo che ciò che vi date bisogno è anziato poca sardipendenza patologica e giocate responsabilmente il consiglio nostro è quello di non giocare assolutamente perché al gioco alla luce si perde io vi auguro un buon weekend e ci vediamo domani per luce Sì